salve a tutti e bentornate e bentornati sul canale di wondershare recovery oggi vedremo insieme quali sono i tipi di dischi rigidi esistenti e come verificarne il loro stato di salute prima di continuare ricordatevi di lasciare un like ed iscrivervi al canale un disco rigido è uno strumento che utilizziamo per archiviare i nostri file e i nostri documenti in formato digitale esistono diversi tipi di dischi tra cui hard disk tradizionale e i più veloci e moderni ssd noti come unità a stato solido i dischi sono costituiti da diversi componenti ad esempio i piatti sono il componente più basilare di ogni disco rigido insieme ai piatti troviamo altri elementi come l'intestazione del settore e il codice di correzione degli errori ogni settore sul disco occupa una posizione fisica e contiene le informazioni ora vale la pena ricordare che il flusso strutturale di ogni unità varia a seconda della tecnologia utilizzata ad esempio il modo di archiviare dati cambia se usiamo un hard disk o un ssd siccome i settori vengono usati per archiviare le informazioni qualsiasi danno su di essi rappresenterà una minaccia di potenziale perdita dei dati in generale i settori possono danneggiarsi a causa di un'ampia gamma di motivi ad esempio attacchi virus presenza di malware danni fisici alla componente hardware la presenza di settori danneggiati di solito non permette agli utenti di accedere a determinate posizioni per accedere ai file quindi se ci sono più settori danneggiati non sarà in grado di accedere ai tuoi file e alle tue informazioni per verificare la salute dell'hard disk come utenti abbiamo la possibilità di valutare la salute del nostro hard disk per valutare la possibilità di perdere dei dati o eventualmente di recuperarne alcuni persi magari a causa di un errore nel file system ci sono diversi modi per controllare lo stato di salute del nostro disco rigido e scoprire se ci sono dei settori danneggiati e potenzialmente riparabili vediamo qualche metodo per risolvere eventuali errori e controllare la salute del nostro disco rigido metodo 1 usare il metodo fisico con hard disk di fascia alta uno dei metodi potrebbe essere il microscopio a forza magnetica per verificare la presenza di settori danneggiati nel disco rigido per ripararli per chi non sapesse cosa sia il microscopio a forza magnetica è una procedura utilizzata per scansionare con la punta magnetica un campione magnetico del disco e ricostruire la struttura della superficie in parole povere non solo ti aiuta a rivelare i settori danneggiati ma li ripara anche ricostruendo l'intera struttura del disco rigido teniamo presente che il processo di mfm non è un processo semplice quindi è meglio consultare utenti esperti e lasciare che eseguano loro la procedura ci sono però soluzioni software più semplici da tentare di utilizzare per riparare il disco rigido in base al sistema operativo abbiamo a disposizione una serie di soluzioni in software da adoperare ad occasione che ci consentiranno di riparare il disco rigido tranquillamente e velocemente cominciamo dalla prima soluzione più semplice cercare soluzioni online apriamo il pannello di controllo 2 selezioniamo gestione dispositivi 3 ora selezioniamo dall'elenco l'icona generale degli hard disk 4 selezioniamo il disk e clicchiamo con il tasto destro su di esso 5 scegliamo la voce proprietà con un click e individuato il modello di hard disk cerchiamo su google o sul sito del produttore eventuali soluzioni software o driver un altro metodo consiste nel usare l'utilità check disk potremmo provare a controllare il disco di windows con un utility integrata progettata per aiutare gli utenti a scansionare i dischi alla ricerca di errori e settori danneggiati questo metodo si può eseguire direttamente dal prompt dei comandi avviato come amministratore 1 clic tasto destro sul prompt dal menu star 2 eseguiamo come amministratore 3 digitiamo c hk dsk e nome del dispositivo un ulteriore metodo consiste nell'usare il tool w e mai si anch'essa un'utilità di windows che ci dirà lo stato di salute del disco con un semplice messaggio l'autodiagnostica ci riferirà con un ok lo stato di salute del disco positivo con un messaggio di preerrore invece lo stato non ottimale del disco per avviare l'utilità wm ic dovremmo avviarla accedendo come amministratore al cmd di windows una volta avviato digitare wm ic e quindi premere invio e digitare disk drive get status un'altra possibilità che abbiamo e invece di scaricare se non l'abbiamo già fatto e provare wondershare recovery un sistema straordinario quando si tratta di recuperare files persi o danneggiati per prima cosa occorre installare il software su pc seguendo questi passaggi avvio ripristino e scegli la posizione in cui il video di youtube è stato archiviato ed eliminato se i file sono stati eliminati da un disco rigido esterno possiamo semplicemente collegarlo al pc e selezionarlo nella scheda dispositivi esterni facciamo clic su successivo e attendiamo che il ripristino esegua la scansione del dispositivo di archiviazione per i file eliminati dopodiché ricordiamo che il completamento del processo potrebbe richiedere del tempo una volta che il processo di scansione sarà completato sfogliamo i risultati per scegliere i video di youtube che stavamo cercando una volta selezionati i file desiderati facciamo clic su recupera per ripristinarli sul computer possiamo toccare il pulsante anteprima per controllare i file prima di recuperarli e salvarli il video finisce qui spero che vi sia stato utile ci vediamo alla prossima